A meno di 24 ore dall'ultimo infortunio mortale sul lavoro nel Bresciano, un altro grave incidente è accaduto nelle prime ore della mattinata, quando poco dopo le 4 di venerdì notte una donna di 61 anni è rimasta ferita all'interno dell'azienda Ondapac di Castenedolo. Secondo le prime ricostruzioni, la custodia dell'azienda sarebbe stata travolta da un cancello uscito dai binari. Al momento dei soccorsi era incosciente ed è stata trasportata poi in codice rosso al civile dove è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Brescia insieme ad ATS e a supporto i vigili del fuoco. La vittima dell'incidente mortale di giovedì pomeriggio alla bettoni plastica di Torbole Casaglia è Stefano Del Barba, operario 55enne di Paderno Franciacorta, padre di due figli, molto noto in paese perché attivo nel volontariato e membro del coro della parrocchia. L'uomo è stato travolto dal carico che stava scaricando e che lo ha investito e schiacciato contro una lamiera. La dinamica esatta è ancora però tutta da chiarire. Al lavoro i tecnici della medicina del lavoro della TS e i carabinieri di Chiari. L'ennesima tragedia sul lavoro del Bresciano ha riportato in primo piano il tema della sicurezza. Già ieri pomeriggio alcuni esponenti del mondo sindacale sono arrivati a Torbole per parlare con i lavoratori e capire con più chiarezza cosa possa essere successo e cosa abbia provocato questa morte bianca.